Qualcuno ridica di D29 di non spammare meme Vabbè ma tanto se non ci sono le sue non è che ruba il posto ad altri Comunque le guardo tutte quindi alla fine vanno anche bene Quando non hai meme per la live ma pensandoci bene questa è una meme e ti senti un genio del male E triste poiché ride Grande Samit Quanto sei strano test? Belli questi test Tempolibero purfemme.it Però se nel film non c'è la capra 0 su 35 Ti è mai capitato che qualcuno ti dicessi per quanto sei strano? Sempre Qual è il tuo gusto di gelato? Vaniglia, cioccolato, vaniglia Cioè in verità vaniglia non mi piace aspetta Perché ho messo vaniglia? Sono pazzo Non mi piace la vaniglia Ti piace attaccare bottoni con gli sconosciuti? Non posso tornare indietro è terribile Ti piace attaccare bottoni con gli sconosciuti? Sempre E tra l'altro si lega allo story time che vi devo dire Quali sono i tuoi film preferiti? Sì, quello è un po' di nicchia contando che è tipo The Conjury, no The Conjury 2 è famoso Ma Martyrs è di nicchia Che musica ascolti Non c'è una via di mezzo Vabbè mettiamo questa roba Qualche volta ha gente che dice Quando fatica a capire la ragione delle tue azioni Dipende Quando ho relazioni sessuali Verso animali di vario tipo La gente si lamenta un po' Quindi qualche volta sì Quando navichi in India Quali sono le pagine che visiti con più frequenza? Porno, porno, porno I porno contano come set di incontri Social network Che cosa ti rende più infelice? Le cose più insignificanti Quanto profonda questa frase Quanto sei strano L'elogio della normalità Ma che cazzo dici? Non sei pazzo Non è vero mai Non è vero Allora When you're trying to carry your team Bellissima questa Matsutio Kyuubi Fai sempre meme di gran qualità Bellissima questa Oddio Bello che c'è sia lez Bello questo photoshop Ovviamente è riferito alla live di ieri Bellissimo Questa roba E' un po' moncresse però E' un po' moncresse L'ho visto anche in chat E' un po' moncresse Quando l'ho sorpresa così forte Da distor... Da distorcere I tuoi occhi E' vero Ho gli occhi stortissimi Quando l'ho sorpresa così forte Da distorcere i tuoi occhi E' tutto così storto Perché è tutto così storto? Guarda... Storto e sfache Non me l'ho data Sto stando di... Non è vero Ecco Questo si ma sto stando Oddio ne ho chiuso un in più Sto stando no perché lo dico sempre Di Domezzi Perché lo dico sempre Ehi Tito sono io George Washington Ce li siamo visti ieri sull'Erosphere Forse vengono vedere che Dito arriva sempre No non è vero Dai ormai faccio pochissimo I'm a gender fluid Brother boy Two more There's supposed to be Two gender If there's more Then it's mental disorder Esatto 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 Claire Bot Secondo te Rex Non risponderà mai ai messaggi Di Dito? Sì sì Non mi fido Dito29 Non mi infido per niente Sotto nei commenti Sì sì Cite Dito Infatti Sì sì Ragazzi non vi arrabbiate Se mi rispondono da due giorni A meno di rispondono da due settimane Per adesso siamo garanti Ho conosciuto il quattro anni fa Continuo così Prima lì Eh però cavolo È difficile rispondere a tutti Se ti ho perso da due settimane Vuol dire che è introvabile Il tuo messaggio Perché è impossibile Perché sarà stato sommerso Quindi perdonami Ma non te la prendere Però lo sai anche te Federina Pellegrini Levati Quando ieri mi lanciavo sul letto L'uomo più autistico di Genova No oddio Adesso lo fate Se lo fate Bello che Avete il potere Di farlo in verità Fare l'uomo più autistico di Genova E fare E fare Farmi comparire su Google È bello che ce l'avete il potere Ragazzi Dite se sei bloccato nella doccia Ma alla fine come hai fatto uscire? Eh ho chiamato mamma Che mi ha salvato Il culo Peloso Letteralmente Papà stasera Su Twitch Da non poter essere messo in una live Niente È stato bannato E Twitch non vuole Che venga Venga più visto Il gioco che di dentro Nei face Esatto Esattamente Esattamente No Questo qua Non do addito Sta cosa Idea Dito perché non fate i giochi interattivi Con la cia Già fatti Già fatti Già fatti L'ho già fatti Questo l'ho visto ieri Questo l'ho visto Vediamo un po' Nei nuovi Questo Ok C'è un sottofondo per il recap Bella che è Bella che è questa Dire se il gioco metodo ti vecchi Ti consiglio giocare quello nuovo Dato che nel vecchio non si capiva nulla Della storia Non faceva manco tanto Invece quel nuovo si capisce meno E fa più Cagare sotto Grazie per il consiglio Ormai ho il Metrò Last light Vediamo Vediamo Che bella è questa Sì lo so È bellissima Lo so Lo so è bellissima questa Come sarebbero code Come sarebbe code per il nostro race Se non esistessero i cheater Esatto Sarebbe Ads Quanto Gli occhiali Comunque non voglio rubare spazioiali Se io voglio fare meglio Non è mica colpa mia Mi riesce Però c'è sta A me qua del re Ogni volta mi fa Mi fa sembrare stranissimo Mi fa sentire strano Comunque no tranquillo Fanne quante Fanne quante Perché alla fine vedete Le guardo tutte Cioè come vedete Le ho viste tutte Quindi non è che toglie spazio agli altri Quindi le live le possono fare Assolutamente tutti Tutto Quindi non è che Toglie spazio agli altri Ok Tutto qua Comunque lo story time In pratica Ricordate che Allora vi avevo raccontato Mesi fa Tipo un mese fa Un mese e mezzo fa Forse due mesi fa Non me lo ricordo Che sull'autobus Avevo incontrato C'erano due tipe E io mi ce l'ho approcciato Ve lo Ricordate che Ce l'avevate anche Ce l'avevate anche scherzato sopra Che una era maggiorenne L'altra era minorenne Però stranamente Quella che Con cui ci volevo provare Quella molto figa Era Era quella maggiorenne No stranamente Ecco Ve l'avevo detto Mesi fa No Che ve l'avevo detto Che mi ce l'ho approcciato Facendo finta Che avevo le cuffie Quando invece erano spente Eccetera Ecco Ve l'avevo detto Ecco Stavo venendo io Ora Invece adesso Poi non l'avevo più sentita Da Appunto Da quella volta Che ve ne ho parlato Le avevo sentite Tipo una settimana Entrambe E poi basta No Vabbè Se non ricordate Adesso sapete Tommy Non fare troppo spam Please Tommy Seriamente Minchia Ora lo Ora lo time out Tommy Ti Time out La vita Ok Troppo spam Troppo 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 spam Però aspetta Così è fin troppo 600 secondi Sono troppi Come faccio Aiuto Quanti Tommy Non volevo Non volevo Per 600 secondi Volevo per tipo Un minuto Ma perché 600 secondi Il re non perdona Ma no Non volevo Tommy Scusa Adesso Se qualcuno Ok grazie Qualcuno ti ha Rimesso a posto Ok Per tipo 90 secondi Ok Scusami Tommy Ma stavi facendo Uno spam gigante E Quindi niente Non li senti Grazie Rafa Rafa Scusa Non li sentivo Da Non le sentivo Da due mesi Quindi Stavo venendo in live Stavo venendo in live E Adesso Oggi Vedo su instagram Che Questa persona Mi Ricordavo il nome Mi Mi ha scritto Vado a vedere Era un video No E dico Bo Apro il video E sono tipo Lei E questa sua amica Quella figa Con cui ci volevo Provare Che nel video Mi dicono tipo Ehi Joe Dove sei finito Perché Non ci siamo più visti Queste cose qua Tipo Perché Perché non ci becchiamo più Sull'autobus Dove Dove sei finito Io ero Ero tipo What Adesso Con questo tempismo Mi venite a scrivere E niente Quindi ero tipo Tipo Cazzo Adesso E cos'è Cos'è Che è automod Che cazzo è automod Il messaggio è stato sospeso In attesa di essere Ma chi è Consento Boh Io ho consentito Grazie per il tuo feedback Ma che feedback Ma non so E quindi niente E quindi Ci sono rimasto Perché non me lo aspettavo Poi tipo Io gli ho scritto Ma cosa Pensavo che non mi voleste più vedere Dato che Non ci avevamo più sentiti Pensavo che non voleste Approfondire No E quindi Lauren Ha detto No Tranquillo Anzi E quindi niente Non si sa E quindi Boom Stavo venendo in live Hashtag Nubile Films Triggered Ma si Triggered Perché Che tempismo Adesso Proprio Così a 4 Ovviamente Con 4 intendi Io Willy Raffa E Metzi Ovviamente Senza neanche una donna Ovviamente Anzi K Eh si Sono anche loro di Castiglione delle Stiviere Anzi Vabbè Basta Ok Siccome Hai Rifiutato La trissa Ma fai una cosa Quattro Giustamente Giustamente Tommy Scusate Minikappa Tranquillo Tommy Solo che Non potevo più Vedere niente Nella chat Perché C'era solo Il tuo Cool story bro E basta Vedevo niente Quindi Come Finale di Stagione Della Della Delle live Irle Quindi Non più Biondo Ma Incredibile Orgia Fra me Willy Raffa E Metzi Sappiatelo Incredibile Allora To the moon Che me lo state Chiedendo Esce il 14 Ragazzi Non posso giocarci adesso Deve ancora uscire Quindi niente ragazzi Direi che abbiamo parlato Abbiamo cazzeggiato Direi che possiamo partire Con la live vera Altra cosa Giusto Altra cosa Prima Altra cosa Altra cosa Altra cosa Vi faccio vedere Allora Sì ma perché Io sono sotto Perché io sono sotto Allora Come avete visto Ho incominciato A caricare Le live Le live Sul Sul canale Nei prossimi giorni Ne caricherò Un bel po' In modo tale Da arrivare In pari Tipo Oggi ne ho caricate 4 Fa fatto 450 450 430 Visite Non me lo aspettavo Anche perché Non sono per farvele Vedere adesso Sono per avere Un appunto Archivio Per il futuro Tutto qua Tutto qua È Solo per Fare avere Un È solo per avere Un archivio Comunque Come vedete Nessuno di questi video Tranne questo Letteralmente Tranne quello Hanno tutti Tutti Qualcosa Di copyright Tutti Quindi Ovviamente Come vedete Non ci preprenderò Un euro Da questi video Tranne che da questo Se faccio 500 Visite Ci prenderò Quanti 6 centesimi Forse Quindi Come vedete Non è per i soldi Ma è per avere Un archivio Perché appunto Le live dopo un po' Si cancellano E niente Come vedete Hanno tutti Materiali Protetti Da copyright Tutti Tranne uno Tipo Questo ad esempio Da un'ora e 07 A un'ora e 08 C'è Believe Music Per conto di Photonil Vediamo Ok Quella canzone Imbarazzante A copyright A quanto pare Vedete Questo E quindi Niente Volevo farvelo sapere Così o meno Vedete che Non c'entrano niente I soldi Anche perché Su nessuno Di quei video Possono esserci Gli ad E se anche Me li lasciano I soldi Non vanno a me Ma vanno Alle case Di quelle canzoni Quindi nel senso Io non ci prendo Comunque niente Quindi tranquilli Potete stare tranquilli Al 100% È solo appunto Un archivio Allora Come Allora intanto Il gioco Deve mettersi Un attimo In più in finestra Perché Ve lo inquadro Aspettate che ve lo inquadro Aspettate che ve lo inquadro Quindi Questo Questo va qua Questo va qua Questo va qua Questo va qua Così Questo va qua Così E questo va qua Così Perfetto Ora Aspetta Pa 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 Aggiungi Game Proprietà Metro Redax Ok L'audio ve lo alzo Un pochetto Dovremmo esserci Dovremmo esserci Perché ve lo inquadro È così storto Aspetta che ve lo inquadro Un po' più a destra Che non so perché Ok Che sia fuori Bene Metro Redax Si va Foray Games C'è un topo C'è un topo Che fa il culturista Tutto così Quindi è un gioco Che dovrebbe essere bello Dovrebbe essere bello Dovrebbe essere interessante Vediamo un po' Perché in inglese Soprattutto Game options Sottotitoli Ma perché in inglese Italian C'è la lingua italiana Vai Lascio anche la lingua italiana Perché Ok Aumento un po' Che il live Sicuramente Viene un po' più scuro Indicatore impatto Magari sì Physics avanzato Oddio Non mi interessa Allora Ok Direi che va bene Quanto fluido Aiuto Scusa A quanto stiamo giocando Madonna Minchia Quanto Ho ottimizzato bene Scegli lo stile di gioco Con sopravvivenza Spartano Ah no È 2033 Questo allora Non lo so Sono confuso Cosa facciamo Sopravvivenza O spartano Scegliete voi Scegliete voi Sopravvivenza O spartano Spravvivenza È un po' Da impegnarsi un po' Di più Spartano È un po' Più cazzaro Cioè Possiamo A quanto ho visto Fare un po' Di più Fare un po' Più Stare un po' Più tranquilli Come Risorse E cose del genere Ah ragazzi È un gioco vero Quindi la trama Sarà Seguita Sì ma io Non sto più Vedendo il secondo Schermo Allora Spartano 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 Suavvivenza Spartano Spartano Mi sa che Vince Tantissimo Spartano Spartano Edz Tutta la vita Spartano Spartano Sono molto Di più Gli spartani Io Personalmente Avrei scelto Spartano Quindi bene Normale Ogni cosa Che mi ha una sfida Sia ha la tua capacità Vabbè Normale Scusa Avrei bisogno Di controllare Le tue scorse Munizioni E fie Di confrontare Un combattimento Con estremo Cioè A normale Già è difficile Cosa vuol dire Normale Dai Ok Va bene Ha vinto Sì stanno ancora Scrivendo Spartano Le persone Ok Regola barra In modo che sia appena visibile Lascialo così Stai zitto I tetri Arrivarono Molto tempo dopo Venivano dai giardini Dell'Eden I tetri Ma che disegni brutti Molto più alti Di qualsiasi essere umano Creature da incubo Inquietanti Come un uomo Trasformato Nel suo opposto Mostrinati Per distruggerci Ma basta I topi Stanno sempre in piedi In sto gioco Si diceva Che fossero Incredibilmente Forti E votati al male Che con le loro zampe Potessero fare a pezzi Un uomo armato No Non è che sono scarso È che almeno Riusciamo a giocare Comunque amicchia Ce li hai i suoi anni In terreno Lo stesso doppiatore Di Layton Ma la verità Ranger difficile Ezz Ah così inizia Premi il tasto Per continuare Va bene Grazie Oh my fucking god Grazie Perché arancioni Sottotitoli Pietro Pietro Asmusi Omega Lui Quanto cade Questo Così Si inizia col botto Non sto ancora gioco Ok si Minchia che fluido C'è i suoi anni Ma è bello fluido È bello Ottimizzato bene Raga Allora Che sta succedendo Eh cosa facciamo Spariamo ragazzi No a quanto pare no Che schifo Ma ci sono degli uomini Ublunghi Aia No Sei scemo Sì ma io ho paura A sparare Non voglio sprecare colpi Non so se Cosa Ma sono Sono i miei Sono i miei compagni Non voglio sparargli Ma dai Moncas A k E giustamente Sei rimasto solo tu Oddio Aia Meno male che Non ha il cazzo Almeno What the fuck Monca mega Seriamente Gengis Khan Incredibili Ok Sono venuto subito A cercarti Visto che sei tu Quindi i tetri Sono queste Creature strane Hanno cercato Di contattarmi Meno ho capito Se è il primo metrò Questo no Perché non me lo ricordo Il primo L'ho giocato Troppi anni fa Ok Ok quindi noi dobbiamo Parlare con questi Cosi Alieni Esseri strani E a quanto pare Io sono l'unico In grado di poter Entrare in contatto Con loro Ti aspetto all'uscita Sì ma non mi puntare Sembra quello di Code Come si chiama Reznov Come si chiamava Passò l'ultimo anno Della sua vita A mangiare E respirare Attraverso Sì va bene Anche tutti quelli che fumano Allora gli viene un buco Nella gola Reznov Ma la voce di Junior È vero È vero È vero C'è la voce di Junior Usa vase per spostarti Sì Guarda lì C'è un uomo Sibillino Che suona C'è il diario Buona continuazione Buona live Buona serata C Vi vuole Scusate ancora KC Ma tranquillo Tranquillo Va bene Grazie per essere stato Con noi Tommy Ci vediamo Nella prossima live Grazie mille Alza il volume del gioco Cioè Questo è il seguito Di 33 Ok Perché non mi ricordo Davvero poco Quindi Ho alzato ragazzi Spero che si senta bene Adesso Grazie mille Tommy Che figo è sta cosa In pratica Con Vedi Con il tasto destro Vedo Le cose Segui il canale Incontro con me Con il tasto sinistro Accendino Come metto via sta roba Con M giusto Con M L'ho tirato fuori Come lo metto via Non posso Ok Cosa fa questo uomo pazzo Guarda Che sono Non mi dire Privet Che ti ammazzo Attento alle docce Mio avete scritto Qua ci sono dei banni Qua c'è l'allenamento Micheà il team Brucio il cappello A Romanoff Dito perché per prima cosa Hai pensato al cazzo Perché ci penso sempre Mi equipaggio da bene Se riesco a posare il diario L'accendente Sì Ma io non ho le mani Ho le mani equipate E Aiuto Ok sì Comunque questo va E segue Cosa è successo Cambiare la combinazione Di colori No Lascia la combinazione Di colori corrente Madonna Che fastidio Quando Windows Si convince Vuoi cambiare La combinazione Di colori Per qualche motivo Fastidio Aspetta che ora Mi sta Rompendo il cazzo E non mi fa Cos'è preferenze Video Non si può neanche Mettere Non a schermo intero Tra Sto stronzo Perché non Non mi fa vedere Il secondo schermo Adesso Sto stronzo Dai Oh ok C'ha fatto A volte sì A volte no Ok ok Eh scusa Mi sono dimenticato i filtri Sì scusami Dammi il filtro E ora i medikit Quante robe mi deve dare Ma solo a te Su Cele Ma non lo so Dammi qua Niente Sotto quel bancone C'è un mondo C'è Ragna Rocco lì sotto Ah ancora Mi devi dare robe Ma la scelta Custaggio è scambiarli Con armi Modifiche Munizioni normali Ed equipaggiamento Dai mercanti in giro Va bene ok Hai altre cose Mi chiede di do fuoco ai buff Prima Italia Per ammine Ah tieni schiacciato Ok Dove le prendo Guardi E là Ok Come faccio a scegliere Questa Ah ok No dammi La K Sì La K Ok prossimo Un altro K L'RPK La bastarda Prende Guardala La bastarda Prendo la bastarda E prendo anche Questo La valvola Va bene Uccidi lo Swift Rage Ma minchia Parla Parla frotto Dai fammi andare al poligono Fammi andare al poligono Ehi Erdiano Non mi può vedere Ci sono vari altri Anche Eeeh Cioè qui stessi Uno due tre Sì va bene Sì ma se non mi dai bersagli Allora Ah ma sono questi i bersagli Mamma mia Mamma mia Il Mosin Nagant No perché me l'hai fatto Sparire su lui Ok Che filo che è come Shooter Ciao ma c'è un bellissimo Filo Inglorious Baster Questa qua è la Greens Gun Di Pogger Del nuovo Pogger No non voglio Alle Alle Oh si Ci metto Voglio andare alla Regnale con me Questa è una cucina Non mi sembra La base Questa è la riunione con Miller Dov'è la riunione con Miller Un uomo Mi senti per una strada No Questa è la riunione con Miller Eccolo qua Che cosa mangia con l'Artyom Ah Caffa Quanto Let's nitsk Let's nitsk Al cimento slocato Che ha fatto Che ha fatto Let's nitsk Eh ho capito Quello fa così E ho capito Smetti E di Agitare Io vado Eh raga Artyom Va per primo Sì lo so Sono stato Al museo egizio A Torino Lo so No L'audio Reznov C'ero io Le tombe degli antichi re Edz Ehi Ho sentito che Le snitsk Ha combinato Basta questo Le snitsk Cos'è successo Nessuno lo sa Le snitsk Era al Monca me Amica me lo son Trovato così Guarda qua Eglia dentro Lo posso Gotere dentro Le snitsk Era scompato Dai Piegati Allora Che c'è là dentro Bellissimo Posso entrare dentro Questo Incredibile Maledizione Il colonnello Mi farà passare Un brutto quarto d'ora Per colpa di Le snitsk Mi ficcherà Un attizzatoio Incandescente Dritto in mezzo All'anima Un attizzatoio Incandescente Dritto in mezzo All'anima Ok E' vero Che controlliamo Il Tienile Di qua Eh non so Che è una metropoli Ma metro Questa è l'or Dentro la testa Di lui È l'or C'è un tizio Con dei capelli strani Ho sentito Che i rossi Si stanno mobilitando Allora in pratica C'è un tizio Che è andato in un posto Ed è sparito E non so Perché Perché si è messo così Scusa Vengo Arrivo Scusami No Non volevo Sì ma perché Si è messo così Si è costipato Delle umanità Conosco un po' di persone Nel passato Che magari hanno fatto Cose un po' brutte Reznov Devo scorreggiare Stava defecando Volevano solo dire Volevano solo dire Che erano Un combattimento Tu Artyom hai Di circuiti In comune con loro Eh si Si è capito Che c'è un collegamento Con loro Si è capito Che brutti siete voi Iniziati Ma perché entro dentro Ogni cosa La tua stazione D'origine È probabile Che anche Il migliore Dell'ordine Sia morto Ecco Un teranto E questo è quello Che ti aveva insegnato Pumpa time Non combattiamo Per sopravvivere In questo mondo Nuovo Per i motivorati È la legge Delle evoluzioni Ma dubito Che la legge Va valgando ancora Ma parla Che per Minchia Fuoco al pizzetto Subito Ma che sto accendendo Un sigaro Allora Quando è che si spara Giovanni Ci penso io Tranquilli Si colonnello Non funge Colonnello Ho individuato Un tedro Supestite Ai giardini Cosa Una di quei Non è ancora viva Per fortuna Sì Per fortuna Ma perché sono tutti In ste pose strane Tutti così Che oscillano Colonnello Mi dia Una possibilità Segui Segui la luce Dove vedere gli occhi Un tetro da solo Non costituirà Una minaccia Artyom ha un dono Credo che sia capace Di stabilire un contatto Sì posso parlare Con i tetri Perché non ti fidi Non lasci venire Perché te Ti brucio il gonito Artyom Vai con Cana Ai giardini E trova il tetro Ma si Manderò Un cecchino Con voi Il migliore Che abbiamo Anna Anna Portami La panna Per copertura Per eliminare La creatura E finire il lavoro Dell'ordine Miller Non può Ma non prende fuoco A niente Ma chi Oddio Ma perché fai sempre casino Te questa bandana Già Già Non lo volevo Nella mia tenda Artyom È la tua ultima possibilità Di perdono Ma non tutti il pene gigante Perché Gli do fuoco Anche a quello Non importa Sì ci penso io Tranquilli Parlo di col tetro Pare che si sia avvicinato Troppo alla creatura E si è impazzito Ascoltarti Completa la missione Non ti vedo Torna subito qui La guerra si è vicina E avrò bisogno Che ogni ranger Sia al proprio posto Ora vai Ma ho capito Allora che stiamo aspettando Ma io voi sto aspettando Ma cosa sfigati con io Sto aspettando che finiate di parlare E non dimenticarti di finirlo Con un colpo alla testa Sì A parte che io credo Che tu ti muovi In modo strano Soprattutto Fa così con le mani Guardala come fa con le mani Vuoi c'è Ma si vuoi chiamarmi con io Ti lo fa con le tette Forse dovremmo accoppiarci Va bene Forse dovremmo accoppiarci con loro Ah no con loro Così i nostri figli potrebbero vivere in superficie E nutrirsi di radiazione Oh finalmente mi son tolto ste cose Perché Come si fa a nutrirsi di radiazione Soprattutto Questo posto Aiuto le montagne russe Vieni vieni Ah no È l'unica donna in tutto il bunker Se così fosse Avrei delle strane idee in mente Sembra un lego Ma infatti si muove strano Si muove strano Sono qua Sono qua Sì ma potete dirmi Andiamo Ho capito Anche il codino Il codino I denti I denti Ecco La più animazione di Skyrim di lei Dalle il castello Aiuto sono armato Non posso spararle Ci ho provato E mi ha tolto l'arma Ok si comincia a fare Sulle serie Scherzavo Tieni Magica? I nostri figli I nostri figli Non sapranno usarla E i loro figli Penseranno che l'hanno costruita Gli dei Ah ma mi ha tenuto le armi Io pensavo di scegliere A caso La storia sarà interessante Dieci minuti dopo Brucio il pizzico Grazie forse Eh ma io gioco così I denti Monka mega Posso entrare Sì Fammi entrare dentro Di lei Dai È bellissimo Entrarle dentro Perché si vedono i denti Dai fammi entrare Aiuto Siamo dentro Guarda gli occhi C'è una torcia Nella testa Stai ferma Madonna Stai un po' ferma Buona fortuna Ho acceso la torcia Sei contenta Guarda fammi vedere dentro Fammi vedere dentro Te Madonna Non sto un secondo ferma È un buon segno Coniglio Ma smetti Chiama il coniglio Ma che fastidio Vieni qua Vieni Chiamami ancora il coniglio Dai Dai Provaci Provaci Stronza Nel culo Nel culo Io copro il passaggio Ma perché mi dai ordini A parte che potevi aprirlo anche te Ma non male cosa Ho tirato su una leva Ci sono i ragni Hai visto Ci sono i ragni a tele A parte i ragni a tele Bisogna stare attenti Potrebbero morirci Ma via libera Cosa che sono io avanti Io avanti Ma cosa Quanto è veloce Un elfo Ti entro dentro Dido pride E in questo caso Non sarei pride E in questo caso non sarei pride E la Aiuto Peta Peta Eh no Com'è il corpo a corpo Non c'è il corpo a corpo Come si Aiuto Eh si Eh ho bisogno di supporto qua Devo ricaricare Stando qua Stando qua Stando qua Bello esatto Che loro stanno combattendo Per la sopravvivenza E io sono qua A cazzeggiare coi topi Quella cosa è veloce Quella Quella cosa è belenosa Non penso che incontreremo Niente di pericoloso qui Non dire cazzate Ci penso io a incontrare qualcosa Di pericoloso Dammi Dammi 5 secondi Guarda che ragno Incredibile Scappate Scappate Che schifo Ci ho camminato dentro Che bello No 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 Non ho sparato tantissimo Sto dando fuoco alle ragnatele Per puro divertimento Però ho raccolto tre colpi Che ho spaccato un secondo fa No Prendi l'accendino Dai un fuoco alle ragnatele Che almeno Lei cade ai nostri piedi Perché siamo dei Siamo La superficie Mettiti la maschera Come Come si fa G Non vedo niente Con sta maschera Sì E se non le entro nei piedi Magari è meglio Piancala di guardarmi il culo È fuori portata per te Comunque Minchia va Ti faccio vedere io Cos'è fuori portata Mio cazzo Nella tua bocca è fuori portata Perché se ti strozi Le Le paludi di moria Non penso che non teneremo niente Ha detto eh Dammi una mano Per fare Ah adesso sei debole Chi è il coniglio adesso Sei te il coniglio Che vuoi tirare su una grata Levati Levati Che schifo Guarda ancora Madonna L'erba sporca Guarda che schifo Guarda quant'erba sporca Guarda Attenta Non so se hai toccato Puoi prendere Andiamo all'entrata principale Lì c'è una buona postazione Per sparare Posso coprire un'area vasta Sì ma io sento le radiazioni Le radiazioni Tu a quanto pare Sei immune alla loro Come chiamarla Sì io posso Che bello Questo ambiente Sono solo una ragazza normale Quindi non posso entrare Vai lì dentro E cerca la creatura Ma ci riuscivo anche io a tirarla Ma infatti Ah che figo posso Beh io passo l'intero gioco così Lo sapete già Come dici Sì 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 Ok Aia Pulisci pulisci Che schifo Tripofobici No non sono io Che ho voluto Fargli esplodere I tetrani Sono i miei amici A quanto pare Aiuto E quindi E quindi Non gli sparo Non è che mi cambia la vita Se sono custodi Grazie Gentilissimo Ma dov'è Oh questo io volevo Un Mosennagant Un baby Quickscope Aiuto Non vedo Non vedo Aia E non cammina Sei incastato nella merda Fa le canne Tutti i fattoni Sti mostri Olè baby Minchè i fades Fades dizzo On the way Boom baby Boom baby Boom baby Minchè lo sto mancando Come un colpo Olè Preso alla prima baby Pare che abbiamo ripulito Il porto Come va Ehi Tutto bene Sì sì Decente Grazie Ma basta Sto provando a uccidere Qualunque cosa si muova Ma un albero Ma un albero Mi blocca la visuale Forse lo vedo È a circa 30 metri da te A ore 2 Aspetta 30 metri A ore 2 Non ho capito Ce l'ho dietro Non lo so Come funziona Io Che schifo è Ah quello è un tetro Mi sa Mi sa che quello è un tetro Ma è qui Ce l'ho davanti Che faccio Tipica meme Ce l'ho davanti Che faccio Ce l'ho davanti Che faccio Aiuto Rosso Rosso Cosa Sbattiglielo dietro Ho capito Sto andando Un attimo Che saltello Non ho altro Via Non ho altri Vien Come è preso Ma fa penissima Ma è rosso Sto sperminando L'intera catena alimentare Sì Sara Ma che figata Certo Sara Certo Grazie per i pizza Il cielo davanti Che faccio Ah beh Ok stiamo vedendo Quello che aveva Visto lui Sì E' quello che aveva Visto lui Noi abbiamo quindi Fatto esplodere tutto Per esterminare Questi tetri Ne è rimasto Appunto uno Vivo Vedete che era Un po' più distaccato E ha visto La scena Ok Stiamo vedendo Quello che ha visto Come vibra Il joystick Come vibra il joystick I giardini botanici A quanto pare Stavano cercando Ma basta Ho i ragni sulle mani Ma quanti ragni Abbiamo catturato Un mutante vicino All'ora della taglia Di un bambino Cioè l'hanno catturato L'unico rimasto Butemorgan Monca Questo chi? Spari Spari Ma con che voce? Due braccia Due gambe Dieci dita Non capite Sono un cittadino Dell'Ansa Ansa.it Ma che schiaffetto Gassi Cosa parli Ma quanti ragni Ma basta Chi è che mi parlava Ma perché ci sono Così tanti ragni In questo Di questa stanza Ma basta Prendolo a schiaffi Esatto Dieci dita per mano Non è molto Normal Bravo È fatto bene Non secondo me Non era Non mi convinceva Spari 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 Che grida Spari Grande Come lontano dagli altri Spari 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 No Spari E tu Sparami Sparami Cioè no 118 E anche i ragni Come non ti piace Sparagli Spari Ma con quali schiaffaresti Spari 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 E Quello non era il joystick Si gatto puzzo E' vero Stalin sarebbe Fier Ho capito Ho capito Allora Tu sei Dell'ordine Di Sparta Io sono Della Ligia Rossa E quindi Voi applausi Ma chi se ne Prega Dico io Chi se ne Prega Ma basta Ma non mi posso più tirare le manate sulla faccia Vedo Oh Tismo 3 Tismo 3 Una cosa è sicura La nostra unica possibilità E vi è collaborare Aspettate che Controllo sulla dashboard Ok vedo che Il gioco purtroppo piace davvero a pochi 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 Perché siamo neanche 100 Quindi il gioco piace davvero a pochi 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 Poi A fine live vi chiedo se lo volete continuare oppure no Vi faccio facciamo il sondaggio E Un'altra cosa A parte che non so quanto è lungo Fosse breve Potremmo anche giocarlo Dipende quanto è lungo Sì è orribile che non posso tirarmi le manate in faccia Ecco Allora collaboriamo Che è un condotto per la spazzatura Credo sia sporco Non voglio buttarmi Ci sono schizzinoso No dai No Non farlo Non farlo Te ne pentirai Oddio no Che schifo Ok Filiamocela da qui Ma che schifo E poi Andiamo ognuno per la propria strada Ma che schifo E dai vai O vado io Ok Chiudo Lo chiudo in me Oh no Come belliata Che schifo Vabbè I cadaveri Non è Non è spazzatura questa Sono confuso È il loro piano di emergenza È una sommossa Una fuga Vieni qua Aprono la valvola E trasformano la prigione In un enorme camera a gas Tieni 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 il naso Sì Non ho armi Non ho niente Scopi dove è stato portato il tetro Fugi dal territorio dell'impero Segui i pali C'è una galleria dall'altro lato Sì ma io sono qua Ok Ti guido io Ora fa piano O ci gassano tutti Ma davvero sono tipo Hitler Andiamo Ci gassano Me l'ero dato E' diventato Slyrappu Non è il gioco Slybuker Eccomi Ci ho fatto E hai visto che bravo Ok Tac 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 Ci siamo riusciti Cos'era quel tac 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 Quindi anche a me piace ragazzi Però se Nessuno lo guarda Non posso neanche portarlo avanti Ma io ti do fuoco Non lo so Io vado nell'ombra Spesso io Vado nell'ombra Eh Tirami su Dai Eh aspetta ho fatto una cazzata Ma c'è gente appesa C'è un tizio lì Com'è Non mi Non mi vede Facciamo che io sto nell'ombra Io sto nell'ombra Come mi hai insegnato tu Va che Bravo Ehi che aspetti È un attimo È un attimo che non posso Finché non c'è l'ombra Però Ma tre di dio E tac 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 E schismi di pap pap Hai fatto Hai fatto Anche lui ora Smetti di guardarmi il culo Non è roba tua Coniglio Sali su Ah grazie Io sono Io sono velocissimo Sì Tac tac Smetti Sto Sto tac tac Fingi di essere un topolino Scendi E non fare mosse improvvise Sì sì Questo è fuori Vero sì Dito trema Questo qua È veramente fuori Accendo l'accendino No Se io non vedo lui Lui non può vedere me Giusto Muoviti Va bene Sì però vai Non posso passare Vai 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 Dai Quanti Quanto le Aiuto Sono le cose che si appiccicano Ti portano solo di Half-Life E il coniglio E il topo Esatto Ok Tu occupati di quello di destra Io penso all'altro Io distraggo il mio Poi tu elimini Non capite niente No non capite niente Non cominciare troppo presto Tu ti occupi di quello a destra Andiamo Fate silenzio Che vado a ucciderlo A parte come ha fatto A non vedermi Scusa Saea proprio L'ho solo stordito Tranquillo Ok Tiro questo Vado Tiro la leva Fatto Fatto casino Wow Figo Siamo Hogwarts Le scale amano cambiare Ma c'è la luce qua C'è un problema Ehi Ehi C'è la luce Quanto pare Svita la lampadina Cosa Dove Ah qua Ma che figo Così lui può passare Che figata Allora lui sviterà la lampadina Che Aspetta Merda C'è un tizio lì però C'è un tizio lì però Amico Amico Hai la testa uguale al culo E hai la spacciataccia No Non cerco di fare più kill umane possibile Per sbloccare il finale buono Per il semplice fatto che Gioco come fare io nella vita reale Se dei tizi mi rapiscono Io cerco di ammazzarli Non cerco di stordirli E poi del finale buono Non mi importa A me importa Allarme Ma come allarme Ma come allarme Cosa Via 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 Si fugge Si fugge Si fugge Vai nel Vai nell'erba Ma l'allarme come Ma scusa Allarme come è possibile Allarme Come ho fatto a prendere un allarme Allarme Ma chi è che mi ha visto Scusa Lui non può Vermi visto Era morto Ditto Cerca di fare Meno Meno uccisioni umane possibile ZA 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 Un serial killer Un casino Un casino Della madonna Vabbè Io salgo Allora Prega niente Cerca di fare Meno uccisioni possibile Io lo Devasto Grazie Grazie Loveless Per il follow Assassinio di Cesare Intensify Esatto Va bene Sono pronta Questi si scambiano Proiettili Ma non dirlo all'Obersherfure Non dirlo all'Obersherfure Assassinio di Cesare Aiuto Cosa sto vedendo Cosa sto vedendo Perché hai delle cose Molto colorate addosso Quanto vomito Scendi bene Scendi bene Che mi fa venire il vomito Com'è È un liquido Quest'uomo Come ho fatto a girarsi Così Voglio vedere Quello sono queste cose Oh ma sono coltelli Molto colorati Prendi Prendi Lascio i coltelli Premendo C Ma posso raccoglierli Poi aspetta Figo Fantastico Ok Va bene Easy Easy Come? Eh io ci ho provato Ragazzi Ma non posso Ignoranza Non è vero ragazzi Sto giocando No E che ti sta ceppa No No Non mi hai visto Ah ma quello è il mio amico Vaffanculo È caduto giù il coltello Quello merdo Ho fatto un casino Come faccio Aiuto È caduto giù il coltello Come? Ah questo Ma io ho fatto cadere giù i coltelli Vado qui dentro Ok Mi son nascosto qui dentro È giusto? Non so se mi son nascosto Non mi son nascosto Tiragli il coltello Aia Non ho finito i coltelli Autisme No No Aiuto Ho finito i coltelli No Sta venendo dritto qui Aspetta Com'è che si fa Aspetta Rimane lì? Com'è che Ha funzionato Ha funzionato Gli soccorso addosso Con il coltello Ha funzionato Puoi aprire tutte le celle Qui non ce la faccio più Ma Ma non mi frega niente Di aprirvi le celle Voglio i miei coltelli Minchia Uno è proprio Caduto Caduto Merda Ci ho fatto Invece Non mi hanno sgamato Ho letto Il divertimento Appena cominciato Bellin Oh grazie Meglio dei coltelli Cosa vuol dire Si accende Quando sei visibile Ci saranno per forza Altre guanti Più avanti Ma qui Non ci saranno C'ho la torcia Si Non vedo un cazzo Ma finisci di parlare Che non riesco neanche a sentire Cosa sto pensando Eh che pog C'è Ragazzi Micchia Ho fatto una kill pog C'è Non credo di aver fatto Scattare all'armi Ho fatto scattare all'armi No Ok Non ho fatto scattare all'armi Zitti Non dite che ho fatto schifo Non ho fatto scattare all'armi Non ho più il coltello Ma perché Cosa accade Ah ma sei tu Ma perché fai casino Cioè io sto facendo stealth Arriva quello Spara con i mitra giganti Si ma io ho perso i coltelli Li ho proprio finiti Ma dove è Qua sotto Dove cazzo è Ah è morto Oh adesso si che abbiamo i mitra Anche noi Bella 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 mia È colpa mia Ma il coltello dov'è Scusa Era Era qua Era qua Perché non ho più i coltelli Eccolo L'ho preso Ok Trovato Trovate Micchia almeno uno Lo chiamerò Maurizio Sì Lo può Però Ma te Si è turbato E non la trovavo la Mitraglietta Poi è arrivato Io sto facendo stealth Poi arriva A quello Ha sparato con Bazzucca Eh minchia Olè Easy Come sei Ci becca Ci credo Che ti hanno fatto Ranger Sì ma Aspetta che qua C'è Minchia Ti inseguo Vieni qua Vieni qua Madonna Se hai il coraggio Ma vieni qua Se hai il coraggio Aiuto Come è Lo volete Mezzo sangue Cosa ci fai qua Ma Maurizio Ci posso guardare Dentro queste No non posso Per cento anni Con cibo in scatola Che sono quelli Dei geni impuri Quanto nazista Questa cosa Aiuto Aiuto Sparta Cosa Eh siamo noi Evasi Scusate No Qualcosa Io ho chi chiuso Aiuto Non sei scemo Non sei scemo Ma fa un casino così Ma no Ma che cazzo fa Aià Questi sparano Ma sparano questi Aià Ma sei scemo A sparare in mezzo alla folla I bambini calvi Veloce Come salta Ah salta Salta ho detto Eh la madre Sì vabbè Salto di Neanche un metro C'è rallenti Se andasse Lo farei Io sono l'unico Che non ha armi Tra l'altro Ma potete dare Per favore Perché è sempre lui Pollo armato Ma che facciamo Sì ma non ho un'arma Basta A parte che lei Dienta prima Prima che lei rilassi Spara io I bambini calvi Hai per nulla Aspetta Arteon Arteon Aspetta Un altro po' Ma cosa Aspetta cosa Cosa che dobbiamo Aspettare Ma andiamocene Ma quindi Perché c'è mezzo sangue Che ci spara Aiuto Ma che mire Incredibile Lo mancate tutti Ho fatto otto colpi L'ho preso una volta Ma si Munic Eh lo so Lo so L'ho visto L'ho visto Ma perché In tedesco Comunque in tedesco Vuol dire impero In tedesco Buona serata Io vado Grazie per i beats Forcewolf Buona Buonanotte Grazie CX E grazie Quonowi Per il follow Grazie mille Oh Grazie mille ragazzi Scusate Mi ero persi Ma no Si era reso E quindi È comunque Uno dei cattivi La cattiveria È la più grande pietà Ricordatevolo sempre Sempre La cattiveria È la più grande pietà Ma sei un assassino E ora Aiuto Cosa reggiti Non lo vuoi sfondare Ma si Ma Aiuto E per abbandonare il vagone Ma io mi voglio tirare Le manate in faccia Non posso Ma cos'è Cosa fai Le battute Eh Fai le battute Ti taglio Ti affetto Sempre il secondo schermo Bloccato Ma sprechi i proiettili Ah già Vabbè no vabbè ma Uno ne ho sprecato Ne ho sprecato uno Giusto For the memes E basta Spettate che sto continuando A chiudere Riaprire Chiudere Riaprire il gioco Oh finalmente Ok Perché Perché mi era sparito Il secondo schermo Ok Uh Di qua sopra C'è Ah Io ho già beccato Un passaggio segreto Bitch Guarda qua c'è un tubo Molto misterioso Molto velenoso Niente E anche lui è felice Di aver trovato un tubo E quindi Perché si è gasato Ah mi ci lancia Ma quella rima repentina Qua E io che farsi E io Eh si è Certo Con che stai parlando Ma di chi Ma chi è che parla Ma di Ah ma è lui Dall'altra parte Che fa casino No mi sa che l'hanno catturato Merda Ma l'hanno catturato Ma che Aiuto No Alla fine L'hanno catturato Merda Si ma dove mi infilo Scusa Ok 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 Stealth boys Era Marco Nero Mentre è salito lì Avevo tipo Eeeh Già Chissà quanti altri Di quei bastardi Sono qui intorno A strisciare nell'ombra È meglio che li troviamo È presto Vedi niente Andiamo a controllare Il vicolo cieco Già che ci siamo Tanto per stare Bravi Bravi Io dico di controllare il vicolo cieco Digglielo 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 Fotto cadere delle pietre Digglielo Di controllare il vicolo cieco Digglielo Noobs Idiots Ma qua c'è Quante persone però Qua Ma ci sono centinaia di migliaia di persone Coltello baby Ma come ha fatto a vedermi? Sì vabbè Eh sì Non è andata a secondi piani Non è andata a secondi piani Ok Olè Easy Easy stealth Easy stealth Oh Aspettate che la faccio stealth Un attimo Un attimo Un secondo Un attimo Perché Sì Cioè allora Come è possibile che mi abbiano sgamato Se ho tirato un coltello a quello lì? Come è possibile? Come hanno fatto? Scusami Non possono avermi sgamato Cioè è impossibile Hitman Heads Cioè è impossibile dai Heads stealth Un ratto comunista Non è lui che mi preoccupa Già Chissà quanti altri di quei bastardi Sono qui intorno a strisciare nell'ombra Sì sì Lo avete già detto È meglio che li troviamo Però è meglio che li ammazzo questi qua Perché tanto dopo mi sgamano Ok Almeno raccolgo i colpi Ok Ok Ora c'ho sia la silenziata Sia questa di cui Ok ora c'ho un sacco di armi Con un sacco di colpi Uh guarda qua cosa c'è Un fucile a pompa Cos'è? Perché achievement? Achievement a caso? Ah niente Ok Eh ora c'ho un fucile a pompa Un mitra E una pistola silenziata Ratto comunista Ma perché mi hanno sgamato? Non ho ancora capito Ho finito di sgamarmi Senza che io faccia niente Per favore Perché nessuno mi sta sparando adesso? Aspettate che spunti All'adro Che sono urlato Finito? Ah basta Dov'è? Dov'è? Ok ragazzi Stavo cercando di farla Stavo cercando di farla stealth Come vedete ancora è stealth Come vedete Non è successo niente Questo è puro stealth Come potete vedere È solo che minchia Cioè Io più che tentare di farla stealth Sparare con i silenziatori eccetera Anche se uso il coltello Tanto il mini sgama Cos'ho appena raccolto Boh Un vibratore rosso Meno male che ho scelto Di difficoltà soldato Perché io con gli stealth Faccio schifo Quindi Almeno Quando mi sgama Ne sono costretto A far sparatorie Alla COD Almeno rimango vivo Almeno Ok devo fare il giro di qua Per andare su a ponte Dov'è? Dov'è? Sento camminare Aiuto aiuto Basta darmi Del ratto comunista Però Eh siete offensivi eh Aiuto Eh sì Ok Ok Fuccio da pompa E' una bestia incredibile Ho mille colpi Fra l'altro Sono dei cheater COD 2033 Buongiorno Mi arrendo Mi arrendo capito Come? Non ho capito cosa hai detto Cosa sta roba? Uh i coltelli mi ha dato Ok Coltellato In faccia Ok Sì mi era Atterrato in faccia Quello lì Eh vabbè Vabbè Ragno vulgo Mi arrendo Pss Nella fronte Quanta violenza Si stava segando Su un giornalino E tu non ci dico Il re Non ha pietà Esatto Ma in verità Stavo girando a caso Per le foglie Che ti porto subito a casa Questo vuol dire Sì ma sembra un pedofilo Cazzo Stanno venendo a prendermi Mi appenderanno per il collo Ma andò nel doppiaggio A ghiaccianto Sei la mia unica speranza ora Ma che brutto il doppiaggio Ti vieni fuori Schifoso ratto comunista Ho capito Com'è quando lo accarezzi Niente ok Niente E' morto Va bene Ehi Artyom Non mi hai abbandonato Vieni Ti porto a casa Parla in maniera stranissima Aspettiamo che passi Si può Vado eh Perché continuano a dire puttana Sto qua Di cosa stanno parlando Dalla mamma di Artyom Eh Artyom Eh dai Salta giù Artyom Bravo Artyom Cosa Cosa Un cosa Cos'è stato Di cosa parla Nooo Uuuu Stè Ma sto qua non è mio amico Chi si Ma come mia madre Ma come Si auto insulta State tranquilli eh Io non ci sono Io non ci sono Non so cosa Ma sei scemo Ok Non mi hanno ancora sgamato Non mi hanno ancora sgamato State Silenziosi Allarme Ma che allarme Ma stai zitto Ma che allarme Ma non mi avete visto Di niente Aia Mi piace Ce ne mille Ce ne Basta chiamarmi ratto Perché lo fate Non vi ho fatto niente di male Io a parte Spararvi Madonna E uscire I vostri più cari amici Mi chiesto fucile Pompare la bestia E' tipo Il fucile più più Della storia Dei videogiochi Aiuto C'è un cesso Ok Io campero qua Scusa Tanto verranno qua Loro no Adia Stanno Come Io campero qua Chissene Vedi Sto qua Non mi hanno ancora sgamato E vabbè raga Io Io ci provo a fare la stelte Se poi mi sgamano Se uso il Senziatore Però aspetta Minchia c'è un'arma Minchia quanti colpi C'è un'arma che c'è anche il mirino Vabbè chissene Di questa ho mille colpi Mi tengo questa Siamo nel Nel frigo Nel freezer Basta infilarmi nei buchi Ci credo che poi mi chiamano ratto Sono fissato quei buchi Easy 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 Aiaiaiaiaia Quanto sparaggio Quanti sono Strage incredibile Quanti A parte che c'ho due Più Più di duecento colpi Quindi ok Però minchia quanti erano Dobbiamo andare a salvare il nostro Amicone Sì Il fucile a pompa È over pompa Basta chiamarmi ratto Ragazzi Avete rotto il cazzo EZD2 Easy Qual è questo? Qual è questo? Eh sì Quattro medikit Vabbè credo sia impossibile Morire ormai per me Ma bastava sparare Alla fine è impossibile morire Cioè nel senso Far lo stealth Per me è tipo impossibile Perché odio gli stealth E sono anche scarso Quando Quando ci trovo Però giocarlo come gioco Normale Invece Boh È fattile Come gioco Aia E questo chi è? Sono morto Sono morto Sono morto Curati 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 Meno male che ho visto Che con Q Mi compare Il sembro dei mediti Perché nessuno Me l'ha ancora detto Come curarmi qua Forse perché in teoria Bisogna farlo stealth Allora Basta No Ah lo muoio mai Ok Scappa 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 Cosa ho fatto? Aia Cazzo Eh se hai le perdite Metti Facilioso Pro Riturino Easy per il re Più o meno Dato che mi stanno quasi Ammazzando Pure qua Pure qua Sto per morire Cosa Cosa sto facendo? Aiuto Aiuto Cosa sto facendo? Non lo so Però mi sto curando Cioè Chi è che spara? Eccolo No Non ci credo Ce n'è troppi ragazzi Ce n'è troppi Ce n'è troppi qua Madonna È impossibile morire Diceva Raga Sono mille Non è colpa mia Ma quello Quello non è che esplode Non lo sto prendendo Ma è bagatissimo Scusa Vabbè Ho capito La pistola Si è baggata A mille Cioè io ho sfatto 8 volte Ma Ma allora E questo passaggio Sì è un super segreto Buongiorno eh Ma come? Aia Ma non muore mai Questo allora Ma non muore mai Allora Ma minchia però Vabbè senti Fanculo Io vado Ciao Ok Passiamo di qua E basta ragazzi Quello è immortale Dove cazzo sono? Scusate ragazzi Non volevo interrompere niente Le perle stanno aumentando Eh le perle stanno aumentando Cambia Assorbente Cioè mi stanno mettendo Il pacco in faccia No ma scendi Cosa sali? Aia no 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 Ma pure qui Qui dentro Rompete il cazzo Eh? Cioè qua che è il mio Antro tranquillo almeno Non muore un cheater Ezz Cos'è? Cos'è? Cos'è questo? Ah dove c'erano dei colpi Buongiorno eh Merda Merda Grida Merda Ok In pratica Devo fare così Ole Trickshot Insal Minchia però i salti Sono pessimi Eh si vabbè A cosa ho sparato Boh Si ma Se non venite Boh Io non posso far niente Eh vedi Così li posso uccidere Aia E' esploso tutto Sì ma ma se io provo un'altra tattica dentro qua dentro Una IA infallibile Ezz Esatto Una IA infallibile Ma ho capito Assolutamente infallibile Qua non c'è nessuno Non mi sento neanche passare Aia Chi è? Cosa è scemo? Potevo anche farmi del male Che cosa? Ah ma gli ho tirato il coltello Non è anche fatto apposto Eh si Si però ragazzi Cioè siete un po' tanti Avete un po' l'altro cazzo A parte che Cioè questo ua che è corazzato Non muore mai Vedete che viva Non muore mai Sto po' Oh è morto Ok Aspetta che mi curo Si c'era un orsetto Stra inquietante Non lo so che lo fosse Pensavo fosse un po' Che easter egg Ma non ho fatto niente Boh Ok aspettate Che devo anche poi Girare per i cadaveri Prendendo un po' di colpi Perché li ho tutti finiti Cioè neanche li ho finiti Ah Però tipo i medikit Si Oh le Fastidio Oddio li ho finiti Seriamente i medikit No 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 Non ho fatto niente Non sono stato io Minchia ragazzi Se non so giocare Madonna Se non so giocare A questo stile di giochi Muori Basta Oh Oh le Ok andata 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 Il peggio è passato Ridammi tu Datemi un bel po' di roba Voi Dammi la roba Dove sono i cadaveri In sto posto Su Ma datemi i cadaveri Non va Aia chi è Ma basta Ma da dove No dov'è Allora Ma basta Ti tiro un coltello Che vedi eh Eeeh Con la bocca aperta Ma che schifo Ma che schifo Olè Edz Mai Mai fatto niente Come scusa Mai fatto niente Che è di più facile In un gioco Vado qua Dove andare qua No Dove andare qua Così sto avanti 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 Leone 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 Aia Esploso qualcosa Di fortissimo Dove sto andando Cosa c'è Ho sottotitolato lo sputo Come Non mi sono mai emozionato così tanto Come quando appunto Ora ho visto sottotitolato uno sputo La prima volta È stato emozionante Madonna dammi però la chat qua Ok Al prossimo checkpoint Mi sa che stacchiamo Ok E faremo E facciamo il sondaggio Metro Genocide run Esatto Tiro coltellini e basta Io adesso No ma questo Questo è il mio amico Non posso Zaea No dove è finito Cazzo no La leva Ma che se ne frega di lui Ho perso il coltellino Tipo Cregas Andiamo Tra poco ci sarà una seconda Stalingrado qui Ma sì ma Il mio coltellino L'ho perso Mi crolla in faccia il mondo Aiuto I veri sottotitoli Tipo Esatto È finito Mi sa che mi è finito il capitolo Non so se mi è finito Ma proprio come i tre moschettieri cosa Che siamo in due Prima di tutto E io sono già a casa Comunque Aiuto Non avevo visto Su schifo C'è una cosa che potresti anche venire Comunque Uh Guarda qua quanta bad roba Ma non viene Quindi sta lì a parlare da solo Per tutto il gioco adesso I due moschettieri Kappa Esatto Ho tirato un coltello Porca merda Continuo a tirare i coltelli a caso E perderli Senti rumori Eccolo Ecco l'ho trovato Ok Dove devo andare? Mappa 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 Ho detto Ah la mappa Mi indica di qua Ma con chi sta parlando Quello lì? Lo sai che io sono già qua Vero? Sì ma è chiuso Ma seguimi dove? Ah lì 3 perché il re ne vale 2 Ah ecco ecco perché Giusto giusto Allora Ah devo dar fuoco alla roba Sennò te non passi Sei schizzinoso Vai vai Ok ora che ho dato fuoco alle ragnatele Sei più felice Dove sei allora? Una frana Una frana Eh sì Che posso? Ah qua sotto vai Vai apriamolo 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 Edz Vieni ad aiutarmi Sì tranquillo Stai tranquillo Frella I tre moschettieri in due Come on bro Olè Quanto pesante queste cose Sì e poi si solleva per magia E si incastra così Eh sto volando Jack sto volando Ah ma te la sei data adesso? Aiuto Pieno di mosche Non faccio Ok Allora quindi al prossimo checkpoint stacchiamo E facciamo il sondaggio ragazzi Ce la fa venire quello lì? C'è il coso lì che fa una casino Merda cosa? Ma vieni? Ok ragazzi Al prossimo checkpoint facciamo il sondaggio Se continuarlo oppure no Prima vediamo quanto è lungo Perché se vedo che dura 20 ore magari no A parte che lo stiamo giocando tipo speedrun Vai Ho capito Possiamo provare ad aprire Non lo so Possiamo tirare un coltello su Saea Dov'è? Ecco Quindi cosa facciamo Arteon? C'è Arteon Cosu Ah beh Sei bravo Potevo farlo anch'io Ah funziona? Che culo Funziona Il sondaggio quale? È su Se continuare Metropole Non ce la fa venire Di The Pride Magari perché siamo in un ascensore Vecchio di mille anni Speramente Pieno di mostri e ragni Sondere Ah no Sono le torce Che cosa strana Che sto vedendo Non è che si è rotto l'interruttore Si sarà rotto il meccanismo Non l'interruttore Avanti cosa? Con chi parla? È un pazzo questo Ma chi? Ma basta Io muoio Ma cosa vuol dire? Aia vedo robe Camminare un sacco Ce ne sono un sacco Aia Vabbè sparo capito Tanto ho mille mila colpi Non c'è la sua pavorata Che faccio una piazza Non c'è la sua piazza Allora Se non c'è la tua piazza Non cade Prenditi questa Stronzo E se sono tipo morto Vedi la pancia? È l'unico punto vulnerabile Simon The Walking Dead Grazie Ok 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 Se ne incontriamo uno Se ne incontriamo uno Puntagli contro la luce Finché non si gira sulla schiena Hai capito? No Questi bastardi odiano la luce più di ogni altra cosa Anche più Tipo delle capessante col ketchup Non so quanto sono Mi sto puntando la luce Mi sto puntando la luce Che ho fatto? Ah Ok Con calma Scusa Beccati questa Stronzo Ah Scusa Vabbè Però è arrivato il checkpoint Quindi torniamo al menu principale Ok E usciamo dal gioco Ok Come si esce da questo gioco? Esca Prima di tutto Quindi Aggiungi Cattura finestra No No aspetta Aggiungi Si cattura finestra Si ma devo ancora aprirla Cattura finestra Si Chrome Ok Ok quindi Prima di fare qualunque cosa Vediamo un secondo Anzi non Chrome Ma Youtube Vediamo un secondo Me Allora Metro Last light Redax Walkthrough Vediamo quanto Vediamo quanto è lungo prima Ecco Vedete esempio Ok Qua si vede che è bello lungo Perché esempio Queste sono 20 parti Ognuna da 15 minuti No vabbè Alcune sono anche più brevi Ad esempio La parte Noi dovremmo essere più o meno Alla sua parte 5 Abbiamo giocato un'ora No neanche Minchia Lui è molto più avanti Si lui è molto più avanti Ok noi Noi siamo alla parte 4 Mi sa Si esatto Si siamo qua All'ascensore Lui Lui qua Arriva su Esatto Appena Controllato Il coso Ok noi siamo Alla sua parte 4 Su 20 Appunto Ok Questo addirittura Sono 39 video Madonna è così lungo Quindi con l'altro Giocava di corsa Ah no Perché poi ha fatto DLC L'ha fatto hardcore Ok Si è abbastanza lungo Questo dice che dura 6 ore Ok Boh è più che altro perché è un po' lento È un po' lento Vabbè al massimo lo abbiamo provato in questa live e niente di che Non è che Boh Io vi faccio un sondaggio A me Ripeto Non fa impazzire per le live perché è un po' lento Però votate voi ovviamente Ok Grazie Grazie